Il Governo regionale sta attuando da tempo una strategia di contenimento della pandemia con azioni preventive che permettono di monitorare l'incidenza dei contagi ed evitare le ospedalizzazioni. Il Presidente Francesco Acquaroli è soddisfatto della linea intrapresa. Noi stiamo lavorando innanzitutto a tenere sotto controllo la pandemia cercando di mettere in atto tutta una serie di iniziative affinché chi risulta positivo ha bisogno di cure e possa essere raggiunto nel proprio domicilio per evitare l'ospedalizzazione e per consentire alle nostre strutture ospedaliere di poter lavorare nei termini di prevenzione delle cure che devono essere dedicate a tutti i malati non Covid. I dati giornalieri riferiti all'incidenza del Covid ci dicono che stiamo sfiorando la soglia del 10% nella terapia intensiva pur essendo molto al di sotto della soglia limite per ricoveri questi risultati mostrano anche che la situazione si sta stabilizzando e questo fa ben sperare, proseguo Acquaroli che per quanto riguarda la classificazione tiene a sottolineare la conservazione della colorazione bianca della regione. Il grado di contagi di ogni giorno sembra stabilizzato e quindi c'è una fase di stabilizzazione e speriamo che possa tornare a scendere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Per quello che concerne la classificazione della regione attualmente essendo solo quello dei ricoveri in terapia intensiva insomma al limite del 10% siamo tranquilli di poter conservare la colorazione bianca che è la colorazione che consente tutti i movimenti possibili in questa fase e speriamo anche che la coincidenza del rallentamento della pandemia insieme a tutte le altre azioni che stiamo mettendo in campo ci consenta di tenere la nostra regione con un ampio margine di possibilità, di operatività per i ristoratori, per le attività turistiche che ancora sono in essere e che speriamo anche nel mese di settembre possano dedicarci delle belle soddisfazioni.